Buongiorno, sono Davide, il responsabile del negozio Epiquadro di City Life a Milano. Sono qui per presentarvi il trolley da cabina della linea Pulse. Il trolley è realizzato in tessuto tecnico resistente e leggero, abbinato a dettagli in pelle della stessa tonalità di colore. Internamente organizzato con un doppio scomparto, uno per l'ufficio, uno per i vestiti. Nel primo sono presenti due tasche in neoprene per trasportare in sicurezza un PC da 15,6 pollici e un iPad. Sempre in questo scomparto troviamo inoltre delle pratiche taschine piatte per il cellulare e delle penne. Nello scomparto dedicato al viaggio c'è invece una tasca a rete per biancheria e un'altra comoda tasca zippata. Ogni dettaglio di questo prodotto è estremamente curato. Qui abbiamo una targhetta per il nome e l'indirizzo. E questo è il lucchetto TSA, in dotazione con il trolley. Permette di chiudere la valigia con combinazione ma è ispezionabile dalle dogane internazionali. Questo trolley è abbinabile a zaino, borse oppure portafogli, portacarte di credito, portachiavi e portablocchi. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a visitare il nostro sito web e i nostri negozi in Italia e nel mondo. Vi ringrazio per il nostro sito web e i nostri negozi in Italia.